Il grande Elton John ha visitato il museo degli uffizi di Firenze e pensate è arrivato su una sedia di rotelle, una distorsione alla caviglia. E' questo il problema che ha attanagliato, che attanaglia questo cantante inglese ed ecco perché è apparso in sedia di rotelle. L'uomo di 42 anni di età, cantautore, ha postato la sua immagine in carrossina, vestito con una tuta e delle scarpe da ginnastica. La foto è stata scattata nella famosa gallina d'arte. Elton John è arrivato al museo con tutta la famiglia, il regista canadese David Fulish, il suo marietto dal 2014, due figli di Novezaccari e Elia. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto regalo al prossimo video da Narratori Italiani.